Grazie a tutti. Le lezioni saranno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Perfetto, mi chiedete la parola e me la fai. Allora, intanto vi dico un po' come sono diventato animatore, sempre tra virgolette, perché non è che posso considerarmi un vero animatore. Comunque, io vengo dalla provincia di Modena fino all'Emilia e ho lavorato, ho fatto un corso professionale a Modena negli anni 80, proprio primissimi anni 80. A Modena è una cosa particolare, perché negli anni 60 c'era una delle più grosse aziende che producevano cartoni animati, che si chiamava la Polfilm, esatto. Un'azienda che ha avuto anche fino a 100 dipendenti, cioè una vera e piccola industria. Praticamente in Italia c'era la Polfilm e la Gamma Film a Milano che facevano praticamente tutti questi cartoni animati. Voi non ve li ricordate? Adesso faccio fatica a ricordarmi anche io, perché effettivamente lavoravano soprattutto negli anni 60, ancora con la televisione in bianco e nero. Comunque, sinceramente, in questo momento non me ne vengono in mente degli spot pubblicitari precisi. Ma lavoravano soprattutto per Carosello. Carosello era, forse ve lo ricordate, era, perché l'hanno ripreso adesso, praticamente era un programma di spot pubblicitari vari. Quasi tutti erano in animazione e quasi tutti erano fatti appunto dalla Polfilm. Poi la Rai un giorno decise di chiudere Carosello e di colpo la Polfilm è chiusa, fallita. E cosa è successo? Che tutte queste persone di varie competenze si sono distribuite in tre o quattro studi, sempre a Modena, c'era la Polfilm, no, la Polfilm, la Cartoncine, Studio Bignardi, GLM, poi anche De Maria, che poi fece Super Google, sempre con vari studi, perché poi a un certo punto avevano ripreso collaborare un po' tra di loro quando lo si va. Comunque io sono finito da Bignardi, da Bignardi Film, a fare questo corso professionale che è durato un anno e mezzo, professionale quasi nel vero senso della parola, perché all'interno di questa struttura dove lui comunque produceva ancora cartoni animati per pubblicità e no, c'erano tutte le attrezzature, parlo di cose antiche, dalla moviola alla trucca e tutte le attrezzature che servivano in quel periodo lì, per cui mi sono fatto proprio l'esperienza in tutti i sensi, dalla campitura, che poi vi spiegherò man mano. Comunque, ho fatto questo corso qui di un anno e mezzo, poi ho avuto la fortuna, diciamo fortuna incredibile, che uno studio concorrente, la GLM di Modena, sempre nell'81, mi sembra l'81, insomma a metà, sì, alla metà, o all'inizio non mi ricordo, iniziavano la serie della Pimpa, la Pimpa era la prima serie della Pimpa proprio, avevano bisogno di ragazzi, ci hanno chiamato, siamo andati io e un altro ragazzo, e per un anno e mezzo ho fatto questa Pimpa, questo, e lì ho cominciato a capire veramente com'era il lavoro, prima ovviamente ero uno studente praticamente, e devo dire che ancora, cioè, quell'anno e mezzo di lavoro mi è servito, sia per il fatto che si è costretti a collaborare con altre persone, non ce n'erano tantissime, perché nello studio c'eravamo tre animatori, compreso il capo proprio, animatori e intercalatori, ma erano talmente pochi, poi si faceva un po' di tutto, poi c'era la moglie, cioè, che faceva le scenografie, poi c'erano due ragazze, due signori allora, che facevano le campiture, la colorazione, e basta, poi c'era l'operatore esterno, e poi settimanalmente veniva Cavandoli, che aveva la regia della serie, e ogni tanto, una volta al mese o due, veniva il tank, veniva a controllare, che il lavoro procedesse secondo proprio le sue visioni, che non sbandasse un po' da una parte all'altra, perché era la prima serie, per cui era tutto inventato, tanto per dirvi, il prototipo era stato fatto pensando di riprodurre il tipo di lavoro, proprio di lavorazione che faceva il tank, di farlo con il pennarello, e solamente che sugli accettati, il pennarello dopo un pochino svaniva, è stata la colorazione, il segno è stato fatto sempre pennarello, ma poi vi dirò, non ha funzionato benissimo, per cui è stata ripresa, diciamo, la produzione più tradizionale, ecco, con le campiture. Beh, basta, poco dopo ho avuto la fortuna, sempre nello stesso studio di fare alcuni, adesso non mi ricordo, alcuni puntate della linea, sempre di Cavandoli, che faceva sempre la GLM, che poi ho qualche cosa da fare vedere, e poi dopo ho iniziato tutto il mio percorso con degli stop sull'animazione, insomma, dagli anni 90, dagli anni 90, diciamo, ho cominciato a lavorare con i computer, con i primi computer, diciamo, anche che fossero dei presti accettabili, perché c'erano già dei computer potenti, ma che costavano delle cifre mostruose, e fino adesso, praticamente, con l'evoluzione di questi mezzi, adesso si lavora tranquillamente con dei mezzi piuttosto economici, e da una decina d'anni non tocco più una matita, praticamente, ecco, cioè, ormai, ormai, le lavorazioni si fanno così, non tutti, ovviamente, però, ecco, per quello che riguarda proprio la mia professionalità è questa. Ecco, io oggi pensavo proprio di fare questo, di spiegarvi un po' questo, vi farei vedere, vi spiegherei come si fa un cortometraggio in animazione, però partendo da come lo si faceva una volta, cioè con tutto, in modo che si capisca anche, che capiate, come erano tutti i procedimenti, che poi alla fine sono uguali anche adesso, solamente che adesso con l'utilizzo di questi sistemi si sono velocizzate parecchie cose, non c'è più la matita, si disegna spesso, molti disegneranno direttamente con la tavoletta grafica, io faccio così, ma diciamo che l'animazione in 2D è rimasta, cioè, diciamo, il lavoro è rimasto sempre quello, praticamente, o sulla tavoletta o sulla carta, però non è cambiato, diciamo che c'è qualche software che ti può aiutare, ma è più effettistica che animazione vera e propria, l'animazione si fa con la mano e lì non c'è pezza, a meno che non parliamo di 3D, che io non so praticamente cosa sia, Allora, io questa mattina farei questa, vi spiegherei un po', poi vediamo al limite se possiamo già cominciare a immaginarci qualche cosa, e invece oggi pomeriggio partirei con il laboratorio, io non sapendo esattamente quali sono le vostre attitudini, che non è necessario, io non sono un gran disegnatore, voglio dire, non sono quello che disegno, cioè sono un animatore che ha bisogno di tempo per fare le cose e ho in mente una cosa e la faccio pian piano, per cui non è necessario essere dei disegnatori, come vi ho detto prima al corso dell'Accademia di Bologna, poi vi farò vedere, forse se li ho, i lavori dei ragazzi che provenivano dalla sezione del cinema erano quasi meglio di quelli del fumetto, perché quelli ragazzi che venivano dal fumetto erano troppo legati al disegno, hanno fatto bene alla cura dei particolari, senza pensare invece alla dinamica, ai movimenti, eccetera, eccetera. Io non so, io pensavo di farvi fare, voi me lo dovete dire anche voi, se per voi, se vi sembra troppo facile oggi pomeriggio, un'animazione che è una cosa, una delle cose più facili, ma è una anche delle cose più difficili, che sarebbe una camminata. Non so se ve la sentite, ma io penso di sì, tanto ovviamente con le basi, con tutte le cose. Voi mi dovete dire voi, perché può anche darsi che per voi sia anche poco, non lo so, voi vedremo, cioè perché ci sono tanti, poi ne parleremo di modi, ma si può fare bene, si può fare male, si può fare complicata, si può fare semplicissima, ma bella lo stesso, cioè e poi facciamo un pencil test, se riusciamo di questa animazione, poi domani facciamo un'evoluzione di questa camminata, la possiamo colorare, oppure metterci in una scena, fare una scena in loop, delle cose di questo tipo qui, che siano semplici e fattibili nel tempo che abbiamo, perché abbiamo 16 ore. Cosa dite? Va bene? Ciao. Allora. Fate pure delle domande, mi raccomando. Fatta che vi invito a fare domande. Assolutamente, perché io poi so parlare malissimo, e se voi invece mi date... No, ma magari a volte è per timidezza, però a parte che comunque anche se essendo un gruppo più ristretto oggi, quindi è anche più comodo interagire. Un'altra cosa, anche per il laboratorio oggi pomeriggio, perché immagino che siamo come profili piuttosto ibridi, ora non so, tra di voi chi è che ha competenze nel campo dell'animazione, o comunque mai animato? nessuno? No, c'è chi ad esempio... Allora, diciamo, comunque anche per quanto riguarda i laboratori oggi pomeriggio, comunque, insomma, dite esplicitamente a Michele cosa volete, cosa volete, insomma... Sì, cosa vi aspettate anche, perché... Sì. Non lo so, facciamo così, intanto adesso facciamo quello che... Un po' di timidezza in questo... No, 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 si mancherebbe... Tutti un caffè stile così si si... No, no, adesso va bene, adesso parlo io, dopo, dopo, quando voi vi mettete a lavorare, dopo dovete poi andare, no, scherzo. Ah, come si fa? Come si fa un cartone animato? Un'animazione, un cortometraggio? Non lo so, neanche definire delle volte... Se è giusto parlare di cartone animato, di animazione, boh, di film animato, di poh, non lo so, vabbè, abbiamo sempre un dibattito su questa cosa qua, tra chi fa i lavori d'autore, chi fa invece i seriali, quello fa il cartone animato, questo fa... Non si sa bene, vabbè, comunque, non mi interessa tanto... Che cos'è un cartone animato? Un cartone animato, un'animazione, un cortometraggio, cioè, io sto dicendo, vado a dire delle banalità inizialmente, perché sappiamo tutti che è un film, per cui è fatto di sequenze, è fatto di movimenti, è fatto di musica, di voci, di parlato, ed è un lavoro strutturato in un certo modo. La struttura è data dalla sceneggiatura, la prima cosa che si fa, ma come al cinema, come per un film, si parla dalla sceneggiatura. la sceneggiatura in genere è scritta... Io non è che sono spertissimo, perché non ho scritto mai delle sceneggiature complesse, però, insomma, la sceneggiatura è scritta un po' come un testo teatrale, se ci sono delle voci, Tizio dice la tal cosa, e Caio risponde nell'ambientazione in cui viene descritta l'azione. Per cui, in genere, le sceneggiature sono abbastanza semplici, in più, per esempio, Igor, che è un Igor, che è un... è pignolo, pignolosissimo, cioè gli piace proprio la... la complessità delle strutture. Lui, quando facemmo un lavoro in animazione, aveva fatto questa sceneggiatura, e poi aveva scritto una Bibbia, con tutte le caratteristiche dei personaggi, e la filosofia che c'era dietro a queste cose. L'ambientazione aveva descritto completamente, anche se non c'entravano niente con... effettivamente quella porzione di animazione, non c'entrava niente, però ci aveva dato tutte queste indicazioni, Brillo è questo perché la foresta significa quello... Per cui, da chi lavora in team, in gruppo, dà delle indicazioni che tutti poi devono sapere per fare il lavoro al meglio. La sceneggiatura è importante per questo, perché io, quando lavoro a casa mia da solo, cioè me ne frego, faccio quello che mi pare, cioè ho le cose in testa, e sono a posto, cioè vado avanti anche improvvisando, perché mi piace anche fare così. Ma quando si lavora in gruppo, c'è bisogno proprio di una struttura precisissima, e che parte dalla sceneggiatura. Provo a vedere se trovo quella cosa lì di Igor. No, perché era interessante, era... Cioè è una roba... Ecco, praticamente, lui ha due pagine, ha due pagine, di sigla, solo di sigla. Poi, poi le avventure di Brillo, la storia, una pagina, e poi l'universo di Brillo, e tutto il resto, sono sei o sette pagine, dove racconta tutti i personaggi, il bosco, tutto quello che è, proprio la filosofia, la struttura del racconto, quello che sta dietro al racconto. Questo è importante perché la fase successiva, se volete vedere, la fase successiva, dice poco, però, la fase successiva è la ricostruzione della sceneggiatura, che è lo storyboard. Lo storyboard, lo storyboard è veramente, è veramente, è un fumettone, è un fumetto, anche solamente abbozzato di quello che è, di quello che è il racconto, perché inizialmente non serve, non serve avere, non serve avere delle, delle indicazioni precise, ma poi immagino che lo sappiate anche voi. Cioè questo qui è praticamente, è uno storyboard fatto per un cartone animato di un, di dieci minuti, un cortometrado di dieci minuti che facemmo nel, 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 91, sempre con tecnica tradizionale, ed era disegnato da un bravissimo disegnatore, poverino, che non c'è più, che si chiamava Chies, che, era un fantastico disegnatore, non, però vedete come l'ha disegnato, proprio, veramente, abbozzatissimo, guardate, perché tanto, e, e, però, qui comunque si cominciano anche già a vedere delle cose, cioè, se vedete, nel, in questo, in questo storyboard, già ci sono, delle indicazioni che vanno date, alla regia, tipo, queste X, che sarebbero le dissolvenze incrociate, prendete, potete, sì, sì, ma, sì, ma, potete, ci sono, probabilmente, già dei conteggi, adesso non mi ricordo se fossero, probabilmente i conteggi dei fotogrammi, anche, a grandi linee, no? E comunque, vedete, sequenza 6, sequenza 7, sequenza 8. Il conteggio dei fotogrammi viene fatto solo se hai una grande esperienza? Certo, sì, è ovvio, no, ma, no, questo, guarda, sono conteggi che sono fatti, diciamo, con l'esperienza, ma anche, proprio, ci va un po' intuito, cioè, cercando di capire, di immaginarsi come è l'andamento dello sto, ma questo serve proprio quello, questo serve proprio avere l'idea della struttura e anche proprio del flusso del racconto. Stavo guardando se trovavo delle cose particolari, comunque, vedete qua, ci sono tantissime, tantissime dissolvenze incrociate, in questo caso qua, invece, c'è già un'indicazione, queste frecciettine, se le vedete, queste frecciettine qui indicano che c'è un movimento ad aprire, esatto, e queste sono già altre indicazioni, qua, per esempio, questa sequenza qua, nel cartone animato si cerca di recuperare tutto, la pimpa, per esempio, è stata, alla fine delle ultime puntate, abbiamo riciclato molte, molte animazioni, tutte le cose fatte, perché, ovviamente, non si butti via niente, perché costa, no, perché è fatica, no, ecco, questa qui sequenza, la sequenza probabilmente 15, ed è uguale alla 11, viene ripresa totalmente, probabilmente, poi cambieranno l'inquadratura, un po' più, un po' più ravvicinata, non lo so, ecco, qua c'è un'altra, un'altra indicazione, questa indicazione, invece, è un altro zoom, però, con un movimento di macchina, e, sì, qui si può andare avanti, anche qua, anche qui c'è uno zoom, sul primo piano, del ragazzino, insomma, ecco, questo qui è uno storyboard, questo qui è un, è l'altro, abbiamo fatto sempre, abbiamo fatto tre film, in quel momento lì, questi erano film, fatti per la San Paolo Film, di Torino, era un film per ragazzi, basato su delle parabole, anche, come posso dire, riscritte, insomma, in realtà, del piccolo principe, di Sente e Superi, qui non c'entra niente, però, qui ce n'era un altro, che è stato sempre fatto, nello stesso periodo, era per fare vedere, comunque, sempre lo stesso, grandissimo disegnitore, dopo vedrete, sempre, anche qui, non ci sono, non ci sono, non ci sono grandi cose, e la voce fuori campo, ed è scritta, perché è scritta, perfettamente, qui vediamo, se ci sono anche, le indicazioni, del, del, proprio, del labiale, andiamo a vedere, che qualcosa c'era, ecco, esatto, comunque, qui, in questa inquadratura qua, cosa fate qui, il mio, il mio giardino, è soltanto mio, eccetera, eccetera, comunque, diciamo che, uno storbo, va fatto così, non serve, anzi, più, più, è solamente bozzato, e più, poi, nella fase successiva, diventa, come posso dire, lascia la libertà, anche, più possibilità di costruzione, della, della storia, del racconto, perché poi, si parla di racconto, si parla di, come se fosse cinema, come se fosse, un romanzo, cioè, l'obiettivo è quello di raccontare, di raccontare una storia, poi, io, quando lavoro da solo, dico, faccio quello che voglio, non ho bisogno di, di strutturarmi niente, mi piace improvvisare, però, ripeto, il discorso è quando si lavora, in gruppo, che c'è bisogno di, 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 insomma, di relazionarsi con altri, con altri, con persone che fanno lo stesso lavoro, ma, casomai, differenziato, così c'è bisogno di, di una struttura precisissima, e questa qui, questa è la prima, la prima, la prima, la prima, la prima parte, io, questo qui, questo qui, cioè, è roba che, sì, appunto, ha più, più di, più di venti, eh, più di vent'anni, e, purtroppo, non è che ho tantissimo, da farvi vedere, però, la fase successiva, è il layout, il layout, qua si comincia, qua si cominciano a vedere, già le descrizioni, un po' più precisi, i personaggi sono, sono già più, sono già più definiti, io poi, questa, questo, questo lavoro qua, lo si fa anche, lo si fa, andiamo a vedere se, vedete qua, adesso io, non ho il riferimento, della, della scena, però, qua già, ho, ho un, due inquadrature, queste inquadrature, erano fatte con, una volta si usava questo, 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 questo foglio, che veniva, vedete anche fissato, proprio ai, i peg bar, che, ti dava, l'indicazione, delle inquadrature da fare, il campo, da campo 1, al campo 12, e, siccome, siccome, si parla dagli anni 60, 70, 80, quando c'erano, si lavorava in, in 35 mm, il campo 8, per esempio, cinematografico, è questo, quello televisivo, faccio così, prendo un foglio, allora, il campo 8, cinematografico, è questo, il campo televisivo, invece, era molto più piccolo, era questo qua, per cui, bisognava sempre, tenere in considerazione, il, quell'aspetto lì, cioè, è una bella fetta, non poco, tanto, praticamente, da qua, a qua, cioè, avevano queste cose, questo serviva per, ah beh, ti devo far vedere il campo 8? potrebbe essere questo, il campo 8, guarda, la parte più, la parte più, comunque, questo qua, il campo 8 è questo, e in genere, si utilizzava, sì, dal 9, 8, 9, 10, ecco, questo, questo qui, serviva proprio, subito in partenza, per, per lavorare, sulle quadrature, qua c'è disegnato, il campo televisivo, per esempio, e il corrispettivo, cinematografico, lo vedete in rosso, eh, mentre, mentre si faceva questo lavoro, di layout, anzi, diciamo, leggermente, leggermente, in precedenza, il lavoro, il lavoro, il lavoro, sì, qui, potete fare, girateli, fatele girare pure, intanto, queste, tanto, per avere, vi faccio vedere, vi faccio vedere una cosa, ecco, che è interessante, adesso, ve la faccio vedere subito, che ce l'ho qua sotto mano, la cosa interessante è questa, layout, questo qui è, diciamo, il disegno definitivo, preso dal layout, anche questo, mi sembra, Vedi, c'è una prima, la prima bozza, poi c'è, c'è questa seconda, seconda, già un po' più, un po' più precisa, poi, una volta definito, si fa, si faceva, vedete tutti questi numerini, sono i colori, ogni colore, corrisponde a un barattolo, di colore, che c'era, su una speciale, libreria, e questo è il risultato, ve lo faccio vedere così, poi vi spiego anche, tecnicamente, come veniva, come veniva, dopo, quando sarà il momento, intanto, lo lasciamo qui, no, faccio vedere anche la cosa, no, ci sono, i due livelli, che vanno, andavano posizionati, e il principe, il retro era fisso, magari, e la parte davanti si muove, esatto, il bimbo, il bimbo è un fotogramma, poi, ci sono i riferimenti, guarda, vabbè, faccio vedere, sequenza 3, 2, base, il 2 significa che è il fotogramma numero 2, di questa sequenza, allora, dicevo, che mentre si fa questo, mentre si fa questo lavoro di layout, anzi, lo si fa un po' prima, lo si fa un po' prima, adesso non li troverò più, vabbè, farò con questi, si fa un altro lavoro, se li trovo, non sono organizzatissimo, però, lo faccio con degli altri personaggi, perché forse questi, non so se ce li ho, però dovrei averli, aspettate, qua no, allora sono là, no, arrivo, arriverò, arriverò, un giorno, no, questo, no, però li avevo presi, non so se siano qui, qua, qua, vabbè, ci sono anche di questi qui un po', lo studio, lo studio, dei personaggi, lo studio dei personaggi, e lo studio delle scenografie, che venivano, come si comincia, guardate solo che, la scelta di questa carta, quindi se ti uscite, questa qui, perché, sono, sono, è proprio, è carta leggerissima, da buttare, e perché, soprattutto perché trasparente, si lavora, molto velocemente, senza, senza, ovviamente c'erano i tavoli luminosi, però, era proprio, veramente più comodo lavorare, con, e poi la carta, molto scadente, se ne usava dei pacchi, proprio di carta, ecco, qui c'erano, cominciamo a fare gli studi dei personaggi, faccio vedere, solo la, come, come il primo, una prima bozza, vedete, bah, è buttato lì, cioè, qua, qua, non si sa bene ancora cosa sia, poi, bah, qui comincia, si comincia, si comincia a vedere un po' qualche cosa, però, questo non c'entra niente, però, probabilmente ne fare, anche qui, bah, non lo so, probabilmente, cioè, questo, questo, questo disegnatore si chiamava, Gian Paolo Chies, era veramente, un grande, grande, grande disegnatore, poi, poverino è morto, due anni dopo, vabbè, e poi, alla fine è venuto fuori questo, che, vedete, il personaggio, un po', un po' visto nelle sue, insomma, con le proporzioni, le sue, diverse visioni, insomma, diverse viste, ecco, la stessa cosa si faceva, appunto, per le scenografie, insomma, questi qui, o quelli, quelli per esempio, di, che, che faceva Igor, per, beh, qui c'era una scala, delle, delle proporzioni, di, di brillo, con, nana, mi sembra che si chiamasse il cane, qua, anche qui, come era, come era costruita, l'automobilina in cui girava, con la proporzione, del, di brillo, beh, questa è la scenografia, che, che le faceva lui, in questo caso, le fate lui, questo qua, è un altro personaggio, sempre, di, di brillo, disegnato da lui, non è, cioè, se vedete, non è stato molto attento, alle, alle, alle proporzioni, cioè, non è meglio non dirlo, perché, no, vedete che, no, vedete l'ultimo, l'ultimo sinistra, è un po' più altino, di quegli altri due, eh, sì, non ha, però, insomma, fa vedere come era fatto, ecco, non era, e questo qui, qui c'è una specie, cioè, vabbè, mi è rimasto qua, è la, 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 lo storico che ha fatto lui, di, 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 proprio, una volta fatto, il, definiti personaggi, allora si completa, si completa la, layout, nel layout, vedete, i personaggi qui, precisissimi, con tutta la gamma colori, e, 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 i colori, vi dovete immaginare, eh, una parete così, piena di barattoli di colori, con tutta, con tutta la gamma dei colori possibili, tutti i colori particolari, sono colori ecrillici, con dentro, probabilmente c'era, un collante, forse proprio, vinna, vi hanno fatto apposta, che, che, su, su, su questi accettati, su questi accettati qui, non, 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 non crepavano, perché, se, dopo un po' di tempo, quando erano fatti male, proprio si crepolavano, beh, una volta, ripresano, c'entra niente, però, per dire, un, 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 una cosa di questo tipo qua, se non fosse stato fatto bene, sarebbe una roba, indecente, invece era, ti tiene benissimo dopo 20 anni, no, ma anche dopo 30, 40, non è che, allora, siamo al layout, nel layout, volevo far vedere questo, perché questo è veramente bello, questo è, e questa, e questa, era un'unica, un'unica immagine, che poi era colorata, e ripresa con un, con uno speciale effetto di macchina, che dava un po', un effetto un po' così di, un po', un po' onirico, ecco, un po' sognante, questo qua, vedete, è tutto stato composto, è ridisegnato anche, sopra, per, per, proprio per la composizione, della, dell'inquadratura, e, e l'effetto finale, il risultato finale, questo qua, insomma, che, non so se si veda bene, adesso lo fate, lo, giratevelo, questo qui, ecco, questo qua, che poi è così, c'è anche un, anche qui, ecco, vedi, c'è un riferimento qua, riprendere con luce di sotto, bollo centrale, cioè, praticamente c'era una, una, probabilmente, indisolvenza, fatta in, con la 35 mm, andavano, facevano la ripresa, poi, al buio, tornavano indietro, ci mettevano il bollo, gli davano la luce sotto, e veniva questo effetto di, di, di bolla su, su, allora, in quegli anni lì, si parla, vabbè, fatelo pur girare, così lo vedete, perché non era, questo qui, si disegnava, sì, sull'acetato, o con la china, con la china, o, in questo caso qua, veniva fotocopiato, con un macchinone, enorme, che però, cosa, cosa faceva, c'era un mucchio di polvere, cioè, lasciava un mucchio di polvere, proprio sull'acetato, per cui, oltre agli animatori, agli campitori, a tutti quelli, c'erano anche quelli che pulivano, tutti gli acetati, poverine, in genere, erano ragazze, perché erano, le ragazze facevano, le incostratrici, e questo lavoro qua, perché, hanno, una mano formidabile, e pulivano perfettamente tutto, è così, cioè, l'ho fatto anche io però, non è che, non c'è stessismo, era, no, 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 anzi, cioè, per esempio, la linea, la linea, era inchiostrata da una ragazza, perché non c'era nessuno che riusciva a farlo, perché era veramente brava, beh, dopo ve lo faccio vedere, non ho l'inchiostrazione, però, siccome veniva, veniva disegnato, a matita, no, mentre la linea ha un segno grosso e sottile, allora, questa ragazza, con un pennino, disegnava grosso e sottile, cioè, basandosi solamente sul segno della matita, per cui, su un segno sottile, no, su un segno grosso e sottile, per cui lei sapeva, e non c'era nessuno, e poi diventava bianco, 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 vabbè, qua c'è un altro, boh, fatelo girare, tanto, è sempre una, ecco qua, io purtroppo, in queste layout qui, non ho molte indicazioni, in realtà, nei layout venivano, date delle, ecco, questo qui per esempio, anche questo, venivano date delle indicazioni, molto precise, già, cioè, tutti i movimenti di macchina venivano segnati, in modo che, l'operatore sapesse poi, cosa doveva fare, ma l'operatore aveva delle altre indicazioni, dove, adesso, qui forse, qui forse c'è qualcosa, no, queste sono tutte correzioni che vengono fatte, durante il layout, e, allora, il layout è importante, anche adesso, ma probabilmente era più importante, in quel periodo lì, perché, all'operatore veniva dato, un plicco di roba, e che doveva gestirsi da solo, e il layout è fondamentale, perché sull' layout c'erano le indicazioni, che l'operatore doveva, doveva, doveva avere, e le aveva, e le aveva, queste indicazioni, allegate a un altro, un'altra, 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 a un'altra cosa, che è il foglio macchina, che è, il, l'X-Sheet si chiama, adesso non lo so come, comunque è il foglio macchina, che è la vera e propria regia, dell'animazione, è proprio, è scritto esattamente, tutto quello che viene fatto, l'operatore, è ovvio che, in genere, era uno fuori dallo studio, che aveva una, una sua attrezzatura, gli aveva dato, tutto il pacco, con tutte le sequenze, in ordine, con ogni sequenza, e ogni, ogni pacco, ogni, ogni cartella, con, 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 Senna 93, il piccolo principe, dentro c'era il foglio macchina, il foglio macchina, era, è, è stilato, è scritto, da regista, cioè, da, da chi, devo averlo preso, eh, perché se no mi, sono proprio deficiente, porca miseria, allora, qua, questo, questo, Grazie. Sì, questo è il foglio macchina della linea. È molto semplice perché la linea praticamente aveva solamente due o tre livelli. Aveva un colore di fondo, aveva una linea di base che cambiava ogni tanto e il personaggio sopra. Per cui erano tre livelli, più la mano quando compariva la mano che disegnava, per cui erano pochi livelli. Avete mai visto una trucca? Ve la faccio vedere. Cos'era la macchina da presa in 35 mm? Si è spento. Forse si è staccata. Beh, vabbè, adesso. Strano. Vabbè, adesso. Comunque la trucca era, adesso ve la faccio vedere, perché ho fatto fatica anche a trovarle. Era una macchina da presa, fondamentalmente. Era un macchinario alto 4-5 metri, con delle colonne grosse così, dove stava attaccata questa macchina da ripresa in 35 mm. Con un pianale che si spostava in tutti gli assi, no? In verticale, orizzontale, destra, sinistra, eccetera, eccetera. Con le luci sia da sopra che da sotto, a seconda degli effetti. E ovviamente la macchina poteva scendere. E... Allora, vediamo se me l'apre velocemente. Non so se la vedrete tanto bene. Ecco, bisogna andare là a vederla. Comunque è un aggeggio mostruoso. Sono i riferimenti dei colori. Cioè, ogni colore aveva un numero, il bianco era lo zero, credolo, e poi aveva tutte le tonalità. Ogni numero è un colore, è proprio un colore. Un mio amico, cioè, queste, adesso non so, queste geggi qui, allora, negli anni 80, quando ancora si usavano quelli, costavano centinaia di milioni di lire. Un mio amico nel 90... no, nel 2000, 2003, ne ha comprata una, così, a 4 milioni, 4 mila euro. Adesso mi ricordo, a pochissima. Cioè, oltre a mettere la camera in... Beh, erano precisissime. Erano... I movimenti. I movimenti, sì. I movimenti erano... Avevano... Avevano... Avevano delle... Adesso questa qui è manuale, aveva proprio delle... delle rotelle per spostare gli assi, sia in verticale. Cioè, era una cosa complicatissima. Questo... Come faccio? Si vede... Eh? Si può sommare l'immagine. Vediamo. Sì, troppo. Ah, ecco, questo... Questo, 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 questo è un vetro. Perché serve per bloccare tutti gli accettati, perché potevano essere messi, fino a 4-5 livelli di accettato potevano essere messi. Questa, ovviamente, questa qua, ovviamente è la 35 millimetri. Ma i movimenti di camera si facevano con la macchina? Sì, sì. Non col disegno? No. I movimenti di macchina si facevano così. Infatti volevo spiegarvi questo. Ehm... Anche questo è bestiale da vedere adesso fa... Questa qui è... Questa qui è... La sequenza 15 è una guida. Questa qui, vedete che c'è i registri, veniva messa a fianco della trucca. Vediamo se si vede da qualche parte. Non si vede. A fianco del pianale di base aveva un pentagramma, praticamente, un'asta con proprio una punta che andava a posizionarsi sulla partenza del movimento. E l'operatore, guardate che qui è un millimetro ogni spostamento, ogni faceva uno scatto, poi spostava di un millimetro e non è orizzontale questo. Assolutamente, guardatelo pure. Non è orizzontale, è anche inclinato, per cui doveva muovere la macchina sia in senso spostandosi letteralmente e anche verticalmente, di pochissimo, cioè una cosa amostruosa. Ma ci va il conto? Cioè... L'interpolazione di dove stavolta? Beh, questo è il regista che studia il movimento. L'operatore prende l'acetato, lo mette sotto la macchina, tira giù il vetro, va a vedere e sposta, fin quando la punta si è spostata nel punto giusto. La parola era un tecnico perfetto. Perfetto. E adesso purtroppo io non ho... Dove sono i fogli di macchina che avevo qua? Ecco, nel foglio macchina, qui non ci sono perché la linea... Ci salterano fuori, nella linea non aveva dei movimenti di macchina, ma qui a fianco era descritta, diciamo, da fotogramma a fotogramma, era descritto il movimento che doveva fare. Cioè, dal fotogramma 10 al fotogramma 20, c'è il movimento di macchina relativo a questo foglio, o questo qua, ecco. Questo era un altro movimento, un po' più semplice, dal basso verso l'alto. Dall'alto verso il basso. Ecco, il foglio macchina era strutturato, adesso qui purtroppo va bene, molto semplicemente. Il primo livello che andava segnato nella prima casella era la scenografia, la scena. e man mano, spostandosi sugli altri livelli, si mettevano tutti gli altri livelli di animazione. E alla fine le quinte, se c'erano le quinte. Cioè, se abbiamo la scena, il personaggio fermo, e poi abbiamo, in sovrapposizione, la testa che parla, la testa che si muove, poi il terzo livello, la bocca che parla, e a quarto livello le braccia. Ecco, al quinto livello, una quinta. Erano strutturate in questo modo. Ed erano segnate, come anche in questo caso qui, parliamo di... Guarda, qui va a passo 3, 1, 2, 3, a passo 2, 16, 17, dà anche l'indicazione dei fotogrammi che l'operatore deve scattare. Adesso io non so perché va a passo 3, non ne ho idea. Qua, qui, in questo caso qua, evidentemente c'è... Probabilmente è una scena che cambia. Qua i fotogrammi, e qua la stessa cosa. Qui probabilmente ci sono dei riferimenti che però non... E questo qui era il lavoro, diciamo, della regia. Poi torniamo indietro, finito il layout, si comincia con l'animazione. L'animazione... Vabbè, ne parliamo oggi. Comunque, il capo animatore lavora sull'animazione, parte dal layout e comincia a disegnare tutti i fotogrammi chiave, i disegni principali dell'animazione. Prende la cartella con i disegni chiave, li passa al manovale, all'intercalatore, che comincia a intercalare l'animazione. Adesso lo dico semplicemente, poi dopo... Oggi, anche solamente facendo una piccola animazione semplice, si capisce perché. Una volta finita l'animazione, passa all'inchiostrazione. L'inchiostrazione... Molte ragazze, ma anche io l'ho fatto per un bel po'. Si inchiostra sul davanti dell'acetato. Vabbè, qua. Ecco, si inchiostra sul davanti. Cioè, praticamente, si prende la scenografia, la si piazza sotto all'acetato e sopra con la china. Guardate, questa qui... Cioè, veramente, viene da dire che palle che aveva, perché, cioè, è precisissima, eh? Cioè, è una roba... Sembra fatta col computer. Comunque, venivano inchiostrate. Una volta che venivano inchiostrate, passavano alla campitura, alla coloritura. Il foglio, in questo caso, si girava, era girato, e, roba incredibile, col pennello, goccia, goccia, si colorava colore per colore. Era una roba incredibile. Se vedete questo qui, si vede proprio da lì dietro. Se l'avete guardato, si vede... Il colore non viene mai tirato. Dimmi pure. Non ci segue, eh? Se è in diretta lavorare. Si sta facendo gli approbazzini. Ma sono lucido la china. Come? Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, non è... Questa non è fotocopiata, è proprio china, china. Colorato da dietro. Da dietro. Quindi il livello, poi, c'è strato per strato. Sì, strato per strato, ma a goccia. Perché... Perché non doveva grumare... Perché non doveva... Se il colore viene tirato, veniva tirato col pennello, davanti vedi le righe. Se si vedevano le trasparenze. Invece, a goccia a goccia, facevi prima il bianco, per dire, i colori chiari, oppure quelli che stavano sotto. Si colorava tutto il fotogramma di bianco e si metteva ad asciugare. Per cui c'erano dei tavoli, fate conto dei tavoli come questo, dove c'erano i campitori, con in mezzo una specie di libreria, solamente con dei pianali, a questa altezza qui, dove mettevano i fogli ad asciugare. Per cui erano quattro, cinque... Nello studio della Pimpa erano in tre. Erano in tre, facevano tutti tre i colori, lo stesso colore, mettevano a asciugare, appena finito il bianco, passavano al rosso, e via con il rosso, tac tac, mettevano a asciugare, e passavano al giallo. Tac tac tac, e via così. C'era una roba lunghissima, cioè lunghissima, e poi anche impegnativa, perché questo qui ha uno, due, tre, quattro, cinque e sei colori. Questo qua, dovete immaginare che palle, che faceva venire, e poi erano, non so, 100 o 200 fotogrammi, era una roba... Poi così in piccolo, eh? In piccolo è incredibile. E non lo fanno più queste robe qua, cioè è proprio... no, fa... Sì, sì. Se non avevano, si usavano anche i guanti colorati? Sì, sì, avevano i guanti, sia chi colorava, che chi puliva, che avevano, si chiamano i sgarzini, erano delle matite di stoffa, di feltro, e con la punta e pulivano, anche lì con, adesso non mi ricordo, che una specie di alcol, andavano a pulire tutti, toglierono tutti i puntini, con la luce, guardavano, anche quello lì, un lavoro da, veramente, un lavoro da matti. No, beh, è così. Va bene, una volta, una volta, una volta, finita la campitura, le scenografie, nel frattempo, erano già avanti, fatte dagli scenografi, e veniva tutto impacchettato, in una cartella, con layout, scene colorate, e il foglio macchina, che era assolutamente indispensabile, per le riprese. avrò dimenticato un mucchio di cose, però, più o meno, il procedimento di allora, era questo, cioè, adesso, diciamo che, cos'è rimasto di quello? È rimasto, è rimasta ovviamente la sceneggiatura, è rimasto il layout, e l'animazione, perché l'animazione ancora si fa, comunque, o a matita, oppure con la tavoletta grafica, comunque, è animazione, si anima, si intercala, allo stesso modo, non ci sono mezzi, a meno che non siano quelli, diciamo, più, un po' più moderni, del, come posso dire, moderni, per modo di dire, cioè, di usare, spostamenti, loop, fatte da, ecco, però, diciamo che comunque, il lavoro dell'animazione è rimasto lo stesso, e la coloritura, alla fine è rimasta la stessa, solamente che non devi aspettare, che si sugli colore, non devi girare i fogli, non hai i fogli che girano, hai tutto, sì, non hai più cart, non hai più queste cose qua, per il resto, è rimasto, per me, dico, per me, è uguale, ecco, cioè, qualcosa da chiedere intanto? C'è qualcuno che fa ancora animazione non tecnica e tradizionale? Sì, 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 solo che non, non, non c'è quasi più nessuno che, che fa le riprese in 35 mm, non c'è più pellicola, cioè, hanno chiuso praticamente, no, perché c'era anche questo, che è interessante, perché si facevano anche i pencil test, quello che faremo noi oggi, insomma, il pencil test è semplicemente una cosa, fatta l'animazione, si prendono tutte le matite, e si fotografano, per cui l'operatore doveva fare anche questo, si faceva prima della ripresa finale, si faceva le riprese, diciamo che non sempre, nei casi dove ci fossero dei dubbi di risultato, dei dubbi sull'animazione, si faceva questo lavoro, si faceva l'animazione in 16 mm, in bianco e nero, senza senografie, perché ovviamente sul foglio bianco non si vedono trasparenze, però si faceva, e cosa succedeva? Che allora, che per vedere i risultati, bisogna aspettare almeno 15 giorni, 20 giorni, bisognava, qualcuno partiva con le pizze, andava giù alla Cinecittà a farsi fare lo sviluppo, e poi tornava giù dopo 15 giorni, cioè per cui era veramente, era difficile, io mi ricordo che con la Pimpa, soprattutto all'inizio, che dovevamo proprio ingranare il meccanismo, e poi soprattutto perché eravamo, io e un altro ragazzo della mia età, eravamo, era il primo lavoro, non sapevamo ancora che risultati potevamo dare, e non vedevamo mai l'ora di vedere questi pensi in test, per capire se avevamo fatto i lavori fatti bene, oppure fatti male, perché sai, non era, è capitato anche che il nostro capo, Marchesi ci dicesse, che schifo, non sei un animatore, che cosa sei venuto a fare qua, cose così insomma, poi, anche lui, il poveretto non mi sente, per cui, però, però, era anche capitato che con Altan, vedessimo insieme, proprio contemporaneamente, dei pencil test, insomma, lui invece era rimasto molto contento, insomma, lui era uno di quelli buoni, un personaggio super, ecco, diciamo, in tutti i sensi, proprio, riusciva comunque, anche dicendo delle cose che avrebbe voluto vedere, lo diceva in maniera, senza offendere nessuno, senza, proprio con molta delicatezza, proprio un vero, un vero signore, e ti diceva, guarda che secondo me è quella, ma, sì, 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 ma, poi, l'ho rivisto poco tempo fa, e appunto parlava, parlava del, e diceva, sì, che la prima serie, l'aveva, l'aveva, non posso dire, gli aveva cambiato la visione, nei confronti dei cartoni animati, perché non pensava che potesse avere un risultato del genere, quel personaggio lì, in animazione, effettivamente, effettivamente, era venuto fuori bene, poi Cavandoli gli aveva dato, aveva modificato alcune cose, l'aveva reso un po' più, posso dire, un po' più brillante, per certe cose, gli aveva trovato alcune, le oreche che si arrotolavano, i pallini che, erano proprio, non da otan, ma da Cavandoli, proprio da animatore, è vero, ecco, vediamo, possiamo vedere, qualcosa di questo qui, ecco, tanto per, per, il principe, allora, queste cose qui sono, io le ho, le ho, sono, pezzettini, vediamo cosa c'è qua, va, no, questo no, questo, le ho, le ho, le ho riprese da, da un, da un VHS, VHS, per cui, sono di qualità, orrenda, però questo qui è il risultato di quello, più o meno, dello storyboard che avete visto, vedete, è un'animazione abbastanza, insomma, semplificata, anche perché erano, erano dei lavori, dieci minuti, erano dei lavori, insomma, abbastanza economici, dai, tutto sommato, però la, la, la grana della pellicola, comunque, anche se è un, si vede, questo qui era uno, solo questo, eh, sempre di quella serie lì, questo qui, questo qui, poi, erano, erano lavori che erano stati, l'audio non si sente, no, va bene, non è che, che cambia, ecco, le scene, queste qui, ecco, qui va anche a scarti, comunque, le scene di, va bene, non, non era, non era voluto quello, che, non è, è, ma, non è, non è, no, Grazie a tutti.